Che ti ha detto il Ministro? Hai fatto golpi di bravo? Quando mi sono avvicinato alla panchina il Ministro mi ha detto che potevi fare tutto ma non l'hai fatto. Che cercavi? Che cosa hai cercato? Si, golpi ma come? No, ci hanno provato a incrociarla e il portiere ha toccato con il tacco, credo. Che di solito i palloni vanno dentro, non so come era con la mano, di solito vanno dentro. Però insomma, peccato, però sono contento prima di tutto per la prestazione dei ragazzi. Perché dopo quasi un mese e mezzo all'inizio della preparazione, era diciamo la prima partita, seconda partita che facevamo insieme. Quindi sono molto contento della prestazione dei ragazzi e ovviamente per un attaccante il gol è fondamentale. Quindi sono ancora più contento. Che gol ha fatto? Si, uno ha fatto, uno ha pagliato e uno ha zero. Per un classifico è un punto importante, no? Si, si. Portare, diceva Mise che eravate un po' addirittura rammaricati, insomma, mi stava un po' stretto. Si, è normale che comunque, devo essere sincero, il dubbio è un'ottima spada. Dal primo tempo ha fatto un ottimo primo tempo e noi magari eravamo un pochino attitudanti. perché noi abbiamo, insomma, la prima partita quindi dovevamo conoscerci ancora meglio via. Alla luna siamo venuti fuori e non lo so se il pareggio ci sta stretto, perché comunque anche loro le occasioni ne hanno avute. Però sì, ovviamente, volevamo portare a casa tre punti, però va bene anche così, va bene. Grazie. Grazie.